Con una lettera indirizzata alla presidenza del Consiglio Comunale ad Acireale, il secondo dei non eletti della lista del Partito Democratico, Alfredo Spinella, ha rinunciato allo scranno di consigliere comunale, rimasto vacante dopo le dimissioni due settimane fa di Francesco Fichera. Al suo posto dunque tocca ad Orazio Martese occupare il posto in Consiglio Comunale. C'è però un però. Il Partito Democratico resta ancora senza un consigliere comunale ad Acireale, visto che Maltese da tre anni non appartiene più al PD. Per il segretario cittadino acese dei democratici Antonio Raciti, adesso non resta che valutare senza preconcetti l'atteggiamento che Maltese terrà in Consiglio Comunale. Grazie a tutti.